E-Certificate è un prodotto di investimento innovativo che permette di cogliere le opportunità di mercato grazie ad un'allocazione dinamica di un paniere di ETF e iShares, offrendo contestualmente una protezione minima giornaliera non inferiore all'80% del capitale investito. E-Certificate nasce dalla collaborazione tra due specialisti, Benpe Paribas e iShares. E-Certificate rappresenta un'opportunità di investimento flessibile, diversificata e protetta che arricchisce l'offerta di prodotti di investimento di BNL. Il sottostante delle Certificate è un basket dinamico costituito da due componenti, una di performance all'indice Certificate e una di protezione, il tasso Eonia. L'indice Certificate fornisce l'esposizione alla performance di un paniere di 20 ETF e iShares permettendo all'investitore di cogliere le opportunità di mercato. Un ETF è un fondo comune a gestione passiva negoziato in borsa come un titolo azionario. Investe in un portafoglio diversificato di titoli e mira a ottenere il rendimento di un indice di mercato specifico in modo efficiente dal punto di vista dei costi. L'allocazione di ETF e iShares all'interno dell'indice Certificate è dinamica e viene aggiornata mensilmente tramite una metodologia algoritmica elaborata da BNP Paribas che si basa altresì sulla ricerca di mercato dei professionisti di BlackRock. Il tasso Eonia rappresenta un investimento a basso rischio necessario a fornire il livello di protezione. Il peso delle due componenti all'interno del basket dinamico varia giornalmente in funzione delle condizioni di mercato secondo il metodo di calcolo sviluppato da BNP Paribas. In particolare l'esposizione all'indice Certificate aumenta automaticamente nelle fasi positive di mercato. La strategia delle Certificate si completa con la protezione parziale del capitale investito con un minimo pari all'80%. Anche il livello di protezione è dinamico in quanto aggiornato quotidianamente in misura pari all'80% del massimo valore raggiunto dal basket dinamico. Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo gestore di fiducia in filiale numero verde 800 98 99 99 da cellulare dall'estero più 39 06 87 40 87 40. Grazie a tutti.